Non riesco a fermarle, i blocchi sono diversi. Kung Lao ha sconfitto Scorpion. Però le trappole non sono disattivate. E cos'è sto gas? Scorpion è andato via. È sparito. Mi sa che Liu Kang e Kung Lao sono in trappola da questa gabbia, costretti a respirare sto gas velenoso. E poi ci sono degli spunzoni che escono dal terreno. Si è fermato. Perché? Perché il gas si è fermato? E ora chi c'è? Mi sa che arriva una Revenant. Jade. Ma c'è di nuovo Scorpion. Ci servitevi per il nostro piano? No. Jade. Cosa ti è successo? Una morte prematura, come le vostre per l'incompetenza di Raiden. Non puoi usarci contro di lui. Sappiamo delle nostre morti. Sono state causate da nostri errori. Siete stati ingannati, Liu Kang. A dire il vero, è Raiden ad avervi uccisi. Mentre Liu Kang si occupa di Scorpion, vediamo se Kung Lao sconfiggerà Jade. Io mandare verso la morte un guerriero impreparato. Sei morto per un errore di Raiden, Kung Lao. Ora il nostro Kung Lao affronterà la Revenant Jade. Bene, vi saluto, è tutto. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Immediatamente. Parola di Gabri Costa. Grazie.